I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile di Modica hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, durante la notte, un tunisino di 32 anni, Hamza Murad, gravato da precedenti per violenza e resistenza pubblico-offigiale e lesioni personali. Durante un controllo del territorio, i militari sono infatti incappati in un uomo che tirava calcio all'indirizzo di sede e tavoli di un bar sul corso principale di Modica, appunto Corso Umberto, e dopo un primo tentativo di calmarlo, l'uomo ha tentato di scappare. Inoltre, dopo che aveva iniziato a scalciare anche alcuni cassonette alla nettezza urbana, i carabinieri lo hanno poi immobilizzato e identificato in un tunisino, residente a Scoglitti, che era di solito completamente ubriaco. Durante l'operazione di identificazione, uno dei carabinieri, stando anche colpito agli arti superiori, ha riportato delle lesioni. Il giovane è stato quindi arrestato e posto a disposizione dall'autorità giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento verso il carcere di Ragusa.